Ritorna l'appuntamento con Tra le righe incontro con l'autore. Oggi vi presento un sacerdote, un parroco, un docente ma anche un caro amico. Sto parlando di Don Giuseppe Comi in collegamento con noi dall'Arcidiocesi di Catanzaro Squillace in cui è sacerdote. Ciao Don Giuseppe, benvenuto. Ciao Paola, grazie per avermi invitato in questo spazio e grazie a tutti i telespettatori che ci seguono con affetto. Beh oggi parliamo di un argomento importante, parliamo di famiglia perché tu alla famiglia hai dedicato un libro che si intitola La famiglia, verità di carta, verità di vita, spunti di riflessione dal magistero di Benedetto XVI, il libro è tau editrice. Allora, io partirei dalla domanda che può anche sembrare un po' scontata, ma come nasce, da dove nasce l'idea di scrivere un libro dedicato alla famiglia e apprendendo però come spunti il magistero del Papa Emerito Benedetto XVI. Quest'idea nasce dal fatto che la Chiesa, proprio nell'anno in cui ho pubblicato il libro, nell'anno precedente, aveva dedicato un sinodo interamente alla famiglia e quindi ho percepito che poiché la Chiesa ha a cuore la famiglia, avevo questo desiderio di dare il mio contributo perché la famiglia potesse ricevere una luce attuale, alla luce del magistero e delle parole di Papa Benedetto che sempre, attraverso il suo magistero pontificio, aveva con pregnanza, con amore, con sollecitudine di pastore ha avuto a cuore che la famiglia potesse riscoprirsi secondo il disegno di Dio e vivere secondo la volontà che il creatore aveva posto su di essa. Benissimo, quindi come dire, il filo conduttore è proprio quello chiaro, bello, cristallino, limpido Hai dedicato il libro a Monsignor Costantino di Bruno, leggo la dedica, che mi ha testimoniato con la sua vita come vivere il mio sacerdozio a favore della famiglia ecclesiale, un'altra famiglia pur sempre famiglia Spiegaci, raccontaci di più in merito a questa figura, Monsignor Costantino di Bruno Monsignor Costantino di Bruno è stata ed è una figura centrale nella mia vita di sacerdote perché è stato colui che mi ha aiutato ad approfondire i cardini della fede cristiana mi ha fatto riscoprire la bellezza del Vangelo, attraverso le sue catechesi illuminate il mio cuore è stato come avvinto dalla parola del Vangelo a cui ho deciso poi di dedicare tutta la mia vita da sacerdote e poi ho voluto dedicare questo libro a lui perché lui si è sempre preso cura dell'intera famiglia umana in tutti i suoi aspetti, comprese le famiglie a cui poi è dedicato nello specifico il libro e sempre attraverso quelle catechesi assidue e sistematiche ha cercato di dare la luce del Vangelo ad ogni famiglia che potesse prendere quel sostentamento, quel nutrimento genuino necessario perché la famiglia possa vivere secondo il progetto di Dio allora il mio grazie l'ho scritto nel libro, mi dai occasione di farlo anche pubblicamente e proprio a lui perché ancora costantemente afferrato dall'amore di Cristo fa percepire, mi ha fatto percepire, ha fatto percepire a queste famiglie quanto il Signore tiene alla santità di ciascuno secondo la propria vocazione e missione io ho idealmente diviso, anche se in effetti lo è, il libro in due parti da una parte nelle prime pagine in un certo senso si mettono un po' in risalto i motivi che hanno portato la famiglia ad una crisi profonda però non ti fermi qui, nel senso che non dai solamente indicazioni sul perché la famiglia si è in crisi ma proponi anche, sempre attraverso le parole di Benedetto XVI delle vie attraverso le quali è possibile una soluzione ecco, partiamo dall'elemento principale perché anche alla luce della tua esperienza di parroco Don Giuseppe, la famiglia oggi sta attraversando un momento di crisi Indubbiamente è sotto gli occhi di tutti che la famiglia sta attraversando un momento di crisi e questa crisi io la, come dire, la reputo una crisi profonda che possiamo noi legare a che cosa? Do un'immagine, se noi stacchiamo il cordone ombelicale nel grembo di una madre il bambino subito muore, così oggi la famiglia è stata staccata dal cordone ombelicale della grazia di Dio e della verità di Cristo senza grazia e senza verità la famiglia umana muore essa trova il suo sostentamento e la sua vita nella verità e nella grazia nel Vangelo, nei sacramenti, nel dono dello Spirito Santo se la famiglia non vive questa comunione, questa commistione vitale con queste due direttrici celesti divine se non cammina nell'alveo e nel cuore della Chiesa essa si smarrisce, piano piano perdendo quelle sostanze e quel nutrimento divino essa piano piano comincia a denutrirsi fino a morire e poi ecco che si va incontro all'adulterio, al divorzio, ai figli che sono dati in affido a questo e a quello ecco si genera poi uno sfacelo familiare che ha delle ripercussioni sociali e queste ripercussioni sono evidenti e sono sotto gli occhi di tutti allora cosa dico io nel libro? che è necessario individuando questi punti di crisi aiutare la famiglia a che possa ritornare sui binari che invece erano stati smarriti così come un treno non può arrivare alla stazione, non può arrivare alla meta se non cammina sui binari, così la famiglia se non cammina sul binario della verità di Cristo che è il Vangelo e sul binario dei sacramenti attraverso cui è veicolato lo Spirito Santo non avrà mai la possibilità di essere salvaguardate e di giungere al porto sicuro dell'unità ma anche al porto sicuro della salvezza Sempre alla luce delle parole e di quello che Benedetto XVI ha scritto a proposito della famiglia parlavi appunto di riportare la famiglia sui binari, riportarla in un porto sicuro Ecco, concretamente questo come può, come deve avvenire Don Giuseppe? Io parlo anche della mia esperienza di parroco così come mi chiedevi di fare precedentemente e ti posso assicurare che lì dove si scoprono o comunque si aiutano le famiglie a fare dei percorsi specifici anche di catechesi, anche di sostegno, anche di coinvolgimento all'interno delle attività parrocchiali o della vita della comunità cristiana esse riscoprono il senso dell'unità, riscoprono il senso di essere amati dal Signore e riscoprono il senso di essere conquistati dalla verità di Dio nel cuore Una volta che il cuore è riempito di Cristo questo amore, questa verità che ha conquistato il cuore si riverbera su tutte quelle che sono le attività della famiglia stessa in ogni sua forma, ecco perché occorre aiutare le famiglie con dei percorsi specifici aiutarli e sostenerli anche nelle loro difficoltà spirituali, materiali, dell'anima e del corpo concedere loro la grazia di potersi sentire amati dalla Chiesa che ama i suoi figli con un volto di madre Non so se l'hai scelto tu questo passaggio riportato in quarta di copertina oppure la casa editrice sempre leggo dalle parole, dalla prefazione che ti ha scritto Monsignor Costantino Di Bruno e richiama anche il titolo del tuo libro La famiglia, verità di carta o verità di vita Leggo, se il cristiano è di carta anche la famiglia non può essere che di carta i corsi prematrimoniali sono di carta e ogni altro ammaestramento è solo di carta si celebrano sacramenti di carta, si dona grazia di carta si forma ad una moralità di carta tutto sta diventando di carta finché insegniamo dalla carta il mondo mai potrà scoprire la bellezza di Cristo la Chiesa deve divenire Chiesa di vita Queste poche parole di Monsignor Di Bruno riassumono quello che tu spieghi sempre alla luce degli insegnamenti e gli scritti di Benedetto XVI all'interno di questo libro Che cosa ti auguri? Che cosa ti auguri per la famiglia? Qual è l'urgenza? Che cosa bisogna fare oggi più che mai? Don Giuseppe Innanzitutto mi auguro che la famiglia passi dalla carta cioè dal fatto di aver celebrato il matrimonio sulla carta e del aver bollato il documento e averlo firmato a vivere una vita autenticamente evangelica ecco il passaggio dalla verità di carta alla verità di vita un conto è essere sposati sulla carta un altro discorso è essere sposati nella vita cioè in quel dono reciproco, in quel mutuo scambio che deve essere sostenuto sempre dalla verità di Tio ecco il matrimonio è tale perché c'è una consacrazione di entrambi gli sposi alla parola del Signore se gli sposi vivranno secondo questa particolare consacrazione che loro hanno scelto e alla quale essi si dovranno donare io sono certo che la famiglia risorgerà dalle sue ceneri e ridonerà a questa società una nuova anima un nuovo avvento di bellezza di cielo sulla terra ottimo, grazie per queste tue parole io invito davvero i nostri amici telespettatori a leggere il tuo libro che non è recente è stato stampato nel 2015 beh lo dico per essere precisi però affronta un argomento che è e resta sempre attuale quindi è un libro che dedichiamo alle famiglie che possono leggere appunto le coppie le famiglie impegnate in parrocchia può leggere chiunque è davvero un libro che dà degli insegnamenti anche concreti sempre alla luce delle parole di Benedetto XVI La famiglia, verità di carta, verità di vita Tau, editrice, firmato da Don Giuseppe Comi che ringraziamo per essere stato con noi per aver anche trovato del tempo da dedicarci grazie e a presto, al prossimo libro grazie Paola e grazie ai nostri telespettatori Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti